Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Romina Power ha pubblicato una foto su Instagram che ha commosso i suoi followers, lo scatto la ritrae insieme ad una persona importantissima della sua vita Romina Power, ogni giorno che passa, è sempre più attiva sui social. Dopo una lunga carriera televisiva, la Power ha deciso di avvicinarsi di più ai giovani arrivando su Instagram Pian piano ha imparato ad approcciarsi sempre meglio con i ragazzi ed è diventata popolare anche tra le persone che non hanno avuto modo di assistere all'evoluzione della sua carriera Romina Power, lo sfogo sui social.Romina è diventata famosa quando, da ragazzina, ha cominciato a cantare e a recitare al fianco del famoso e ancora giovanissimo Albano Carisi I due si innamorarono follemente l'uno dell'altro e capirono fin da subito di essere fatti l'uno per l'altro Così sono stati insieme per tantissimo tempo, si sono sposati e sono diventati genitori Il loro matrimonio è precipitato quando, alla fine degli anni 90, i due hanno perduto la loro primogenita Ilenia La ragazza, infatti, era partita per un viaggio, nessuno avrebbe mai pensato che non sarebbe più tornata.Romina è la sorella più piccola persa troppo presto.Insomma, la vita di Romina è stata segnata da molteplici drammi, ma ha avuto sempre accanto la sua famiglia Non solo Albano e i suoi figli, ma anche i suoi fratelli. In modo particolare la piccola Terim, a cui lei voleva profondamente bene Terim, purtroppo, l'ha lasciata due anni fa in seguito ad una lunga malattia. Infatti, Terim, ha dovuto combattere con una tremenda leucemia che non le ha lasciato via di scampo Terim, not on earth anymore but always in my heart and mind.Per Romina è stato davvero tremendo doverle dire addio così, da un momento all'altro, le due sono cresciute insieme e Terim era la sua più grande confidente Ancora oggi, Romina sente tremendamente la sua mancanza e dirle addio è stata una delle cose più difficili che si sia mai ritrovata a fare nella sua vita Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video